Che fa la nave lasciato il porto, perché un viaggio non è finito mai, non mai. Rocco Fiume potrebbe essere il nuovo tecnico del solofra, secondo indiscrezioni emerse all'ex centrocampista Conciario, già dirigente dei Giallo Blu, avrebbe molte chance di sedersi sullo scranno dei Conciari per sostituire il partente Francesco Messina. Nei prossimi giorni la nomina di Fiume, nuovo tecnico, potrebbe essere già annunciata. Il solofra che ha smentito qualsiasi notizia di un possibile deniego dall'eccellenza, a breve avrà il suo allenatore. Con l'arrivo di Fiume sulla panchina Giallo Blu è praticamente composto il mosaico Irpino per la prossima stagione nel massimo campionato regionale. Messina, Sant'Ommaso, Martino, Criscidillo e Giuliano rispettivamente confermati sulle panchine di Eclanese. Virtus Avellino e Cervinara, adesso spazio al calciomercato.